Non ce l'ha fatta il piccolo Lorenzo Surian, il ragazzino di 11 anni di Prata di Pordenone che ne avrebbe compiuti proprio 12 il prossimo ottobre. Non ce l'ha fatta e si è spento nella serata di lunedì 9 settembre dopo ore di speranza per la famiglia e per tutta la comunità che per giorni si era riunita nella chiesa di Santa Lucia per pregare per Lorenzo serviva un miracolo che purtroppo non c'è stato e la prima a comunicare la scomparsa del piccolo e satra sindaca Katia Cescon pubblicando la drammatica notizia. Il malore che l'aveva colpito pochi giorni prima è stato alla fine fatale e troppo grave l'emorragia cerebrale che l'aveva costretto al ricovero d'urgenza all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Per Lorenzo non c'è stato nulla da fare, non è bastato nemmeno il delicatissimo intervento chirurgico al quale era stato sottoposto. I medici ci hanno provato fino all'ultimo ma il bimbo non è riuscito a superare la crisi. Lorenzo lascia la mamma Enza Piccinin e il papà Rudy Surian, due persone molto conosciute in paese gestiscono un negozio di arredamento in centro, inoltre lei è una volontaria della Proloco mentre lui è il presidente di 014, un'associazione che si occupa di servizi scolastici tra i quali istituti seguiti figura anche la scuola media Ungaretti. Proprio quella scuola che avrebbe frequentato nuovamente Lorenzo per la ripresa dell'anno scolastico, Lorenzo al suo posto in aula non ci sarà. Il suo banco resterà vuoto e per provare a colmare questo immenso dolore l'amministrazione comunale ha deciso insieme alla scuola di dedicare il primo giorno proprio a lui. Con un minuto di silenzio in sua memoria parteciperà anche la sindaca a nome dell'intera cittadinanza.